Intanto guarda con chi mi accompagno rispettivamente villain e super villain della saga, quindi ci dobbiamo aspettare, no? Tante belle cose, anche brutte però, perché insomma se siamo cattivi non possiamo fare belle cose, ma non vorrei dire troppo, ma neanche poco, vorrei dire abbastanza da curiosirvi. Venite dal 30 novembre al cinema, ne vedrete di ogni, ne vedrete di ogni.